Ormai c'è poco da fare, c'è un problema in Sicilia ed essenzialmente ad Alcamo, in provincia di Trapani, per la raccolta di rifiuti. E anzi ci saranno, anzi ci sono un bel po' di problemi ad Alcamo. Per la raccolta dei rifiuti, soprattutto ad Alcamo Marina, come era stato preventivato e annunciato dall'amministrazione con il suo assessore Roberto Russo, la pulizia straordinaria e ordinaria non è stata fatta, i cumuli di immondizie, i cittadini comunque non perdono l'occasione per sporcare il luogo dove vivono, sono sempre lì. A quanto pare però, la discarica di Trapani e Borrome è chiuda per motivi tecnici del lunedì. Gli autospassatori, quindi ci ha detto Russo, non hanno potuto scaricare, anche se a dire il vero non si sono potuti nemmeno riempire, ripulendo Alcamo Marina. Per l'acqua le questioni invece sono anche più gravi, intanto il turno di quattro giorni scontenta i cittadini e da oggi con la ripulitura delle vasche del bottino, così dice Russo, è una cosa che non si faceva da molto tempo, le cose dovrebbero migliorare, anche perché sicil'acqua dovrebbe inalare più metri cubi, nelle condutture comunque fatiscenti, con perdite nella città di Alcamo e nelle famiglie. Resta anche un'altra questione per i cittadini che si regano al bottino, sembra di non poco conto, perché dove la mezza rivoluzione dell'approvvigionamento dell'acqua è stata effettuata al silbatoio comunale da parte del comune, le autobotti spesso si ritrovano in massa, i rubinetti del bottino, e i cittadini non possono facilmente e celermente approvvigionarsi dell'acqua. C'è un problema per la raccolta dei rifiuti, c'è un problema anche se rimane storico quello dell'acqua per Alcamo, ma non solo, la situazione diviene particolarmente grave perché si è ormai alle porte della stagione estiva, rifiuti non raccolti d'estate e acqua che manca d'estate è una cosa particolarmente più grave che se dovesse succedere e succede d'inverso.